Sono solamente degli ingorghi, degli imbuti creati, per quale motivo? Forse l'ecologia, sì l'ecologia gretina, perché questa è veramente gretina. Comunque non vogliamo tediarvi, non ve la vogliamo fare troppo lunga, tra poco è Natale, da parte di Tullio Trapasso, Trendiamon, Paolo Rusconi dietro la camera e tutti gli altri dello Staff City Report, vi auguriamo buone feste e ci rivediamo presto.